. Diamond League 2017, Bruxelles, incanta la Miller, Thompson brucia talus. . Shauna e Miller confeziona la miglior performance di serata. Nei 400, il suo incedere è regale. La consueta eleganza si abbina ad una rara ferocia, da cancellare lontà mondiale. Corsa a due, sulla retta d'arrivo e Miller, Nasr, emerge la prima, potente, sicura. . 4.946, la Nasr approda comunque al primato nazionale, prima volta sotto i 50 netti, 4.988. Di spessore anche il duello spalla a spalla tra Hassan e Kipiegon nei 1500. L'olandese mantiene la corda ed impedisce il sorpasso alla Keniana. . . La Kipiegon resta sulle code della rivale, esce prepotente negli ultimi 50 metri e chiude in 35.704, personale stagionale. La Mouamad recupera invece lo scettro dei 400 HS. . 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